Benvenuti alla lezione numero 7 Sette? Come va? Bene, grazie. Bene? Come si dice? Stanca. Come si dice? Cansata? Sono stanca. Così così. Così così. Voglio che? La prossima settimana è vacanza! In Italia non è vacanza. Non c'è la spring break. Non abbiamo la pausa di primavera. Però ci sono le vacanze di Pasqua. Quanta settimana? Una settimana più o meno. Un po' meno. In April, sì. Quest'anno in April. So, today, we're not going to introduce new vocabulary, but the idea is that we practice a little bit to talk about ourselves and to talk about your job, your study, whatever you're doing. So, a Capernaid dialog... Oh no! And Pamela Rumi's just like... So, this is... I think the two of you can start with that part. All right. You can start with this. So, just to... Well, we just have pieces of conversation, so it's difficult to understand. But the idea is that there are two friends who meet and one of the friends is with another person who is her cousin. So, they're going to introduce themselves and then they ask about where they come from, what they do, and then they make plans for the evening. We have only three characters. So, I will write the name of each character on a post-it and then stick it on you. So, the first, we have the first small piece of conversation starts with number one. Ciao, Beatrice. Com'astei? Bene, e tu? Bene, cas'è? A questa mia cugina, Jane. O Jane. Okay, so, Beatrice is the name. Beatrice. Let me write it down. I mean, you spell it as in... in the same way in English, but the pronunciation is different. So, yeah. Beatrice. Beatrice. By the way, Jane, do you want your... It's so difficult. Beatrice. Beatrice. Okay, let's try again. Ready. Ciao, Beatrice. Com'astei? Bene, e tu? Bene, grazie. Questa è mia cugina, Jane. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Jane, e tu? Mi chiamo Matteo. Piacere. Il piacere è mio. T'allui bie. Sono americana. Rego, Bea? Jane viene da Boston, in Massachusetts. Cosa fai a Boston? Studi. Cosa stu... studi? La biologia. La biologia. Cosa fai a Boston? La biologia! Cosa fai a Boston? Cosa fai a Boston? Vorrei diventare una biologia marina. Oh. Biologa. Yeah. What's this part of conversation? What are they talking about? Oh, I found out that I want to be a green biologist lady when I grow up. So Jane and Troy, what do you understand from this conversation? I'm introducing basically kind of making an iceberg or I guess talking about how Jane is from Massachusetts and Boston and then they talk a little bit about, you know, small talk about what he studies there, biology, you want to be a marine biologist. Okay, great. So we can have a new Beatrice now. First thing he says is interessante. What does he mean? Interesting. Interesting. And then, so he was talking with Jane, now he talks to Beatrice and says, E tu, Beatrice, cosa fai adesso? Adesso. What does he mean? What do you do? Right now. What do you do? Adesso means now. Adesso. Adesso. So maybe they're friends that haven't seen each other for a while, so he's asking her, what do you do now? Cosa fai adesso? And she answers, sto cercando lavoro. I'm looking for work. Yes. So cercando. Let me write this down. It's the verb cercare. Cerci. Cerci. Buscar. 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 Bene. Bene. In bocca al lupo. In bocca al lupo. In the wolf's mouth? Yes. Good luck. Which means good luck. Yes. I had that on the test last semester. In? What test? Physics. I don't want to. Surprise. I didn't test them on italy. I was just wishing good luck in the test. So that's what you guys were doing. So vodka is mouth. Lupo is wolf. So literally it's in the mouth of the wolf. I studiato ingegneria. Right? Si. So what does it mean I studiato? I studiato. You study engineering. Yes. Engineering. ingegneria. 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 Yes. And then she answers si. Sono un ingegnere mechanical. Meccanico. Meccanico. So, what is Bea? She's a mechanical engineer. Yeah, mechanical engineer. Hey, good job. And then she's asking, e tu? E tu che fai? E tu che fai? Lavoro in un'azienda di programmazione. He works in a company, un'azienda. Azienda. It's a programming company. Good. Okay. Now we have Jane and Beatrice. At this point, Jane's a little bit bored. She's just keep talking. And so she's going to ask. Allora, ci sediamo? Yes. Ci sediamo. Cosa è sediamo? Certo. Io mi siedo. I sit. Literally, it's I sit myself. It's reflexive. That's why we have ci. Ci sediamo. Ci sediamo. Ok. Certo. Prendiamo un aperitivo e dopo andiamo a cena. Benissimo. Cucina. Cuciniamo tutti insieme. Evviva! Cucina. 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 Allora. Cucina. Allora. 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 Cucina. Allora. Allora. So, ci sediamo? Certo. Prendiamo un aperitivo. E dopo. E dopo? What does dopo? andiamo a cena so you see in the word cena it's like cercare benissimo chi cucina? cuciniamo tutti so chi cucina? what does it mean? with cooking and the answer is cuciniamo tutti insieme yeah all together evviva ok let's try once more ciao Beatrice come stai? bene grazie you must have me cucinare Matteo mi cucinare ok so next round we have Jane and Matteo ciao come ti chiami? mi chiamo Jane eh mi chiamo Matteo piacere piacere mio di dove vieni? mi chiamo di dove vieni? da dove vieni? sono americana americana ah americana jane Ah, sì, sì. La visione è Matteo e Jane. Jane viene da Boston, in Massachusetts. Oh, cosa fai a Boston? Oh, studio. Ah, cosa studi? Biologia. Biologia. Cosa vuoi fare a Mazzatina Dara? D'arri? Permesso. Vorrei diventare una biologa marina. So, vorrei diventare una biologa marina. Ok, now we have Matteo e Beatrice. Interessante. Tu, Beatrice, cosa fai adesso? Sto cercando lavoro. Bene, in bocca al lupo. Hai studiato ingegneria? Hai studiato ingegneria. 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 Sì, sono un ingegnere meccanico. E tu, che fai? Lavoro in un'azienda di programmazione. Last part, we have Jane and Beatrice. I lost what? Oh, ci sediamo. Certo. Prendiamo un aperitivo. E dopo andiamo a cena. China. China. A cena. Andiamo a cena. No. No, in Cina. Let's restart. Allora ci sediamo. Allora ci sediamo. Certo. Prendiamo. Prendiamo un aperitivo e dopo andiamo a cena. Bravo. Chi cucina? Cuciniamo tutti insieme. Viva. 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 E adesso andiamo a cucinare. A cucinare. A cucinare. A cucinare. A cucinare. Grazie a tutti